e benvenuti sono messo dylan e secondo visto un video ragazzi ragazzi in questo ragazzo dobbiamo fare la reazione alla premissima youtube fatta su me e su di calyx ragazzi che è una youtube sul video della intervista doppia ragazzi andiamo soltanto a ascoltarla che il titolo ragazzi è kajax uccide mister di chlam ok andiamo subito vai ascoltarlo let's go ragazzi mi raccomando ragazzi prima di iniziare dovete iscrivervi al canale attivare la campanella e lasciare una bella cazzo vai col video come ti chiami dylan cazzo il tuo nome mister dylan cazzo quanti anni hai 17 cazzo la prima cosa che fai al mattino svegliarmi vado a dire buon mio genitorio e vado a dire vado a vedere un po ragazzi kajax punto ex cazzo del canale la cosa che fai la sera la barmi i denti e dormire ritornare a casa tutto sballato perché sabato esco ecco mettermi a dormire direttamente perché sono troppo stanco per lavarmi i denti la cosa ci ha scritto ragazzi lavatevi sempre i denti ecco è il culo è mai avuto esperienze sessuali così no una persona che ti attrae fisicamente cazzo cazzo unica una ficca questo video condizionato quando devo dare un cazzo compagna anche qui che c'era il dj veicela kajax è un quarto Siamo frati del west e poi è morto Oh ragazzi troppo bello sta reazione Ragazzi veramente questo qui che ha fatto sta paro di ragazzi sta youtube pub ragazzi Se meritano molti iscritti ragazzi quindi ragazzi mi raccomando Lascia il link ragazzi in descrizione di sto ragazzo andatevi tutti a iscrivere Perché veramente se lo merita ragazzi se lo merita Grazie davvero ragazzi è stato davvero bellissimo Spero che anche a voi vi sia piaciuto E ragazzi ci vediamo al prossimo video da Mr.Dland Ciao ragazzi